Si abbassa la percentuale dei positivi. Oggi in Abruzzo 262 nuovi casi, poco oltre il 6% dei 4.148 test processati. E i nuovi casi si riferiscono a persone d'età comprese tra 1 e 94 anni, 50 in provincia dell'Aquila, 65 in provincia di Chieti, 37 nel Pescarese e 110 nel Teramano, dove è stato avviato lo screening di massa, mentre due dei nuovi positivi provengono da fuori regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 1.017, di età compresa tra 71 e 91 anni, 3 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara. Del totale odierno, 3 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla ASL. 750 sono invece guariti nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 15.499, meno 412 rispetto a ieri. 647 pazienti, meno 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 66 più uno rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 14.786, meno 483 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.